Ecco, sempre 6 dicembre 2019, siamo sempre qui di fronte da Magambiente, via Teresa Michel 44. Un altro servizio, perché non l'abbiamo guardato bene, qui abbiamo questo avvallamento attorno a questo tombino, di fronte al canile sanitario, che è qua, e che, facciamo vedere qui, c'è un altro avvallamento, non so se... Dello sprofondamento, adesso è coperto dalle foglie, comunque, se mi metto così, forse riusciamo meglio a comprendere questo avvallamento, questo problema che c'è qui davanti. Io ricordo un episodio, proprio qua, con la mia macchina, ero venuto a portare al canile sanitario coperte per i cani, e avevo parcheggiato qua, non mi ero accorto, nel uscire in retromarza, a un certo punto, la coppa dell'olio, ho sentito che ha strisciato, perché avevo la gomma anteriore nell'avvallamento, e quindi la macchina si era abbassata, e ho strisciato tutto il sotto del... Quindi, a questo punto, la questione diventa anche urgente, va bene, c'è un traffico abbastanza... Sì, quindi, qui c'è anche zona di Parini... Sì, sta arrivando... Non se la sentiva di stare... Sì, sta arrivando anche Gianni... Gianni... No, c'è un altro problema... C'è un assemblamento... Sì, c'è un altro problema, abbiamo documentato qua questo tombino, come puoi vedere, c'è questo avvallamento... A tempo a canile... E ce n'è un altro, è un altro qua avvallamento, in pratica sta sprofondando... E ci mettiamo le foglie per... Per coprire... Per livellare... Eh, giusto, no? Cosa ne penso? Va bene... Sti ragazzi qua? Sti ragazzi sono una scolaresca, non possiamo riprenderli perché sono minorenni, quindi c'è un discorso un po' così di... Di tutela, di privacy, e hanno fatto un po' di educazione ambientale? Sì, ha fatto educazione ambientale, ci ha chiesto anche informazioni sul nostro... Sul canale YouTube... YouTube, bene... Sulla pagina Facebook e sul nostro blog... Perfetto... Erano interessati, ragazzi, se stimolati e attenzionati, non mi piace la parola in questo caso, ma se vengono motivati... Sì, sono molto attenti... Benissimo... Eh? Va bene... Chiudiamo ancora questo video... Ci abbiamo fatto vedere un po' di problemi... Perché c'era la mattina aperta... Eh... Io te l'avevo lasciato... Eh... So... E a lei... Iniziamo di nuovo... È tutta la mattina che andiamo avanti così, eh? Non è che siamo spriti... Eh... Scusa, eh... Abbiamo avuto cura di te che fa freddo... Stai in macchina... Sì, ma va a cagare! Eh... Eh... Censuriamo... Censuriamo... Vi rimandiamo al prossimo video... Buona giornata a tutti! Sì...